La Banca Popolare di Spoleto ha inaugurato ieri pomeriggio alle 17.30 il nuovo sportello di Teramo, sito in via Francesco Savini, numero 53. L'inaugurazione ha avuto un'ampia partecipazione da parte di esponenti politici, istituzionali e religiosi. Ubicato proprio nel centro storico della città, lo sportello offrirà la praticità di una sede funzionale per ogni necessità della clientela, unitamente a un comodo, parcheggio antistante. Con l'apertura di questa nuova agenzia, la seconda in territorio abruzzese dopo l'Aquila, la Banca Popolare di Spoleto intende consolidare i rapporti con questo territorio vicino all'Umbria non solo in senso geografico, ma anche per cultura e stile di vita. E che si sposa perfettamente con le missioni e i valori che la Banca Popolare di Spoleto vuole trasmettere ai propri clienti. Trasparenza, etica dei comportamenti, concreta avvicinanza alle famiglie e alle imprese, dinamismo e professionalità.